E ciao a tutti, io sono Cri, vi do il benvenuto a questo sesto episodio su The Space e ho ricaricato dal menu perché avevo chiuso il gioco e stavolta il bug non si è presentato strano, oppure il gioco non ha avuto aggiornamenti Oh no Eh l'ho visto Sì sì, ma prima voglio guardare un po' Oh Una cura Uh, la ricarica stasi Qua Ma io devo andare tipo lì sotto No Di qua Comunque l'han cambiata E' diversa la centrifuga Dunque era così sì Allora Io devo rallentare Ficcalo solo che ho visto un nemico Ficcalo, ficcalo, ficcalo Dov'è andata? Dov'è andato? Come cazzo l'hai capito da un nemico, merda Ma tu hai cristina da venaceus Ma, eh, buttati da un'altra parte, cretino Dai Sì, ma come cazzo lo becco? Oh, l'ho beccato Sì, l'ho beccato due volte, forse Oh, ma Sporco Guarda lì che Bastardo Oh Solo gli tiro uno sch... Ah, ha perso il pezzo Cos'è quella luce lì? Ah, sono le munizioni Allora Caricami questo Poi Sporco C'è un altro Lo sento, lo sento Che viene Che va Mi fa vibrare Dov'è? Dov'è? Minchia, se è difficile mirare Mentre si vola E mi ha di nuovo beccato Ah, ma è veramente stroppo Dov'è? Dov'è? Eh, ma non ti vedo, porco Meno male che non c'è l'ossidio Aspetta Ma dai Che cosa è andato? È morto? Ora sì Minchia Ho un pelo di vita io Ah, fammi vedere qua Che ci sta Ossigeno No, ma è veramente difficile Sto pezzo Ah, l'altro là Qua L'altro coso della centrifuga Ma prima volevo vedere Se c'era qualcosa da raccogliere Tipo questo Che Non mi è utile Di più E io volessi Posso tirare uno schiaffo Allo scatolone qua Ma non puoi Scusa, di questa Ho solo più 5 munizioni Lì c'è l'altro Da spingere Ma prima di spingerlo Se riesco a guidare Isaac Ecco qua Ma perché non posso Tirare gli schiaffi Mentre volo? Ma porco Ah, erano dei crediti Vabbè Allora Fai così E così E a posto E a posto Aspetta eh Vengo Tipo qua Qua va bene Qua sopra Non lo so Io vado qua Vai corri Isaac Qua Dove devo andare? Ah, mi sa laggiù Là che vedo un computer Dai Qua Qua Mi sa eh Aspetta cos'è 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 Abbiamo visto Oh Piliami le munizioni Grande Isaac Vai su Qua Eh, mi sa di sì Ah, là c'era un altro scatolone Ecco Lo sapevo Quindi Centrifuga attivata Ristabilizzazione con carico tettonico Aspetta eh Con carico tettonico Andiamo giù Dove è il carico delle tete? Quindi La centrifuga sembra di nuovo attiva Ora via ai propulsori Ok? Pronto a tuo via Vai Ma non va Non va Non va Ma porco Ma non ho capito io eh Eh vabbè Sempre Ci crepo sempre In sta cazzo di centrifuga Fuga di merda Io ho provato a correre Ma Cazzo c'ho il tempo Vaffanculo Cioè è già partito Vai giù Scusami eh Eh Però Porca puttana Fammi capire Ma io devo andare Di là Ma come vado con i Ah Ho capito Io stavo andando Dalla parte sbagliata È al contrario qua Si va nella parte opposta A come gira Sta troia Eh vabbè Gautè ma dal cazzo ti va Fa me ma che non è bene Si Aspetta 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 Ma va un po' A dar via il culo Va Muori Muori Pezzo di merda Oh Pestalo Centrifuga Dei miei Coglioni Ma perché non corre Vai Ah mi Meno male Qua è giusto Si Oh sto cazzo Io me ne vado Vai Isaac Ma perché non corre Sto rincoglionito Di merda Chiudi sta porta Qua Dobbiamo sparare al braccio Lì al bugone Maledetto Dai Cazzo Non ho più niente Oh Eh ma aspetta eh Ma Non ho più munizioni Ma va a cagare Che inizio di merda Ah io la odio La centrifuga Sempre ci crepo Quella merda lì Qua cos'è Eh ok Sala Del Sto cazzo Minchia Ho tre lame Tre lame Ho Ho mangiato Tutte ste munizioni Eh ma prima Sparare i coglioni Là che Volavano Però qua ho visto qualcosa Non è vero Di qua Ah Porco Da dove? Che spavento Ovviamente Buona la prima Non ricarico Non faccio la puntata Da capo È andata così Eh non lo sapevo mica Che lì c'era un Bastardo Però devo fare attenzione Perché ho veramente Poca vita Ah però adesso qua Un colpo Che prima non avevo O ce l'avevo Quindi Devo fare attenzione Io Dammi un po' questo Apri Pieni Pezzo di merda Ma non c'è È rimasto di là Senti Vaffanculo Autorizzazione Comprimata Eh ma Aprimi le porte Per te Bene Ma che sfiga Prima però eh Eh ma Munizioni Qualcosa No eh Di qua Eh sì Ma io voglio Lì la La bombola Guarda dove L'avevo Incastrata Di qua Me la porto Nell'ascensore No Me la porto Nell'ascensore Ho detto Eh vabbè E niente Due morti In due secondi E vabbè Tanto oramai Sono già morto Tre volte Più quattro Con il La centrifuga Vaffanculo Va Ecco ma le morti Ambientali L'ho sempre fatta Per colpa Di quelle robe Lì Asteroidi Ti do l'accesso Alla camera Del motore Ti do l'accesso Alla camera Ma non salvo Il motore Forse Sì Mi ricordo Anche sto Posto Però scusa Cretino Qua non c'è il negozio Io Pall negoci Bele Scema Mi Lei da Manca Lei da Manca Di Di No 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 Di vendere Il coso L'ador Minchia Ma vale Un cazzo Vendi Ma sull'altro Voleva Diecimina Mi sembra Vale Proprio Un cazzo E poi Ah C'è anche L'armatura In possesso Aumenta La capacità Dell'inventario Ha 18 slot E fornisce Il 5% Di corazze In più Diecimila Eh no Proviamo ad andare Senza munizioni Voglio poi potenziarmi La tuta A livello 2 Apri La porta Ma di nuovo Aspetta che Dice un corpo Che è morto Ho decriptato i file protetti La CEC è stata qui per qualcos'altro Oltre alle concessioni mineralie Cosa intendi? L'epidemia è cominciata nella colonia Dopo che i minatori avevano estratto un manufatto Qualcosa di alieno Impossibile Ma spiegherebbe come mai Aegis VII è off limit Giusto? Ordini del governo terrestre Quando i minatori hanno trovato il manufatto Si sono verificati casi di allucinazioni Paranoia Suicidi Ma la Ishimura ha portato comunque questo marcio a bordo Come se fosse stato questo il loro piano Un'azzo Il marchio Ok aspetta Dov'è il marchio adesso? Nell'attiva Pronto per la spedizione Oh Cazzo Stai fermo Aiza E te Vai Ok Dunque aspetta eh Abbassa Qua cos'è? Usa Questo cos'è? Disattiva Blocca Cos'è? Aspetta Eh aspetta Dov'è spesso? Ma noi Gas me Mi rompermi le balle Non ho munizioni Per Uccider un pezzo di merda Si piglio Ma pugni Oh 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 Vedete che disattivo le ventole E non capisco Togli via questo Bene Lo metto qua Così Questa qua non va più Quella lì non va più Bene Qua Oh Ricaricami solo questa E devo andare più con Cazzo Calma Qua Altre munizioni Devo guardare meglio in giro Se no poi mi perdo Troppa roba Io voglio andare spedito Per non far durare questo Quarant'anni Ma Io cos'è? Ma Così Faccio cagare Oh Meno male Che si cammina di nuovo Sua terra Va Questo Non posso Prendere Ma non Che casino Ma Mi hai detto Sordo Eh Aspetta Mi posso Su Porca Pugnana Mi posso Su Questo qua Cos'ha di bello Lancia piame Forse Eh Sì Oh Il lancia fiamme Mi hanno già trovato un po' di roba Eh Non ho messo di nuova mappa Allora Lancia fiamme Equipaggia Lo mettiamo a sinistra Bene Che schifo Sto posto Sembrano dei brufoli Eh Cazzo E già Torna Bele Sì Ma Scusa Io mi sto Oddio Ma Vado Via Al Silva Picchu Oh Madò Ibraia Sempre Sti Coglioni Io devo andare Di là Però io voglio vedere qua C'è qualcosa Aspetta eh Ho 49 proiettili Che cazzo L'è quello Dice Una Ok Questo Io devo andare Qua l'ascensore Invece qua Cos'è un bagno Aprire Che cazzo Poi troverò Elisabetta Ce ne andremo Da questa cavolo Di nave Sì 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 Non vedo l'ora Di andarci via Da sto posto Che tra i Necromorfi E Sto schifo Qua Cazzo fai Ma Ma Stai zitto Ma guardalo Che ti attacca Sto stronzo Oh Ma ti faccio vedere io Ah lì gli ho allungato il braccio Vuoi anche l'allungaretto del pene Eh Eh non ce l'hai più Ah ah Andiamo Andiamo Isaac Non ho vita Non ho vita Devo rimanere Perennemente Sempre Eh qua devo sparare Per forza E se non avevo munizie Eh Vabbè ho appena trovato Un lancio a fiamme No Aspetta 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 Via Vai Aspetta Porco Schifo Me l'hanno ficcato Aspetta Coglione Stai lì Stai lì Oh Spaccala un po' va Niente Eh non ho di nuovo vita Eh mi serve Ah no Non mi serve niente Minchia un pelo Di Ah 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 noi E' preso Ho fatto un obiettivo Fuoco automatico Uccidi Trenta nemici Col cosa Impulsi Bene Allora Cala Ma qua ci saranno Anche gli uomini In c No Aspetta Figlia l'ascensore Vaffanculo Volevi Coglione Coglione E adesso Raggiù c'è una porta stronza Mi porto giù L'estintore Aspetta Da così Di qua lo becco Lo strozzo Ma va a cagare No eh Allora non so Che fare Andiamo giù Con questo Morto Così sempre Oh Grazie Ah Sto qua E' lo schifo Per terra Che non ti fa Neanche correre Aspetta Ma qua c'era qualcosa Io dovrei andare Ah Dili così Lì invece cos'è Alla Sala Motori E qua Che ho liberato Ascensore Cazzo L'ho liberato A fare Ah Non lo so io Forse Bloccava anche qua Ma che giro Mi fai fare Non me lo potevi dire Prima Ma io non ho Ho una ricarica Eh ma Porco cane C'è una ricarica Stasi qua No Ma dai Forse lì dentro Forse qua Bard Ma dai Spaccalo via Oh l'ho detto Che durava molto Qua c'è Dai Pesta Pisco Piglialo 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 Non c'è niente Ma dai Vai 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 Fuori va Per un Merdino Eh Ho sentito Quanto Vai Ho sbagliato Oh Ricarica Qua Eh Sto Cazzo Ah Ho già finito Oh ma che palle Ma no Per ora Non usiamo Che mai Mi servisse Mi porto il tubo Tanto Mai servisse Più Più avanti Usiamo la ricarica Stasi Ma guarda Lo scudo dall'alto Ma che puntata Ma dimetti Adesso da dove Ricomincio Ah doi Già tre morti Ho recuperato L'episodio Che non sono mai morto Ma che schifo Da qua Vabbè facciamo un taglio Va Rieccomi qui Eh Oh Madoi Allora Io devo far così Vengo qua Venta Venta Aspetta Ancora vivo Quello là Quello io ti faccio Arrosto Per tutto Stronzo E continuo a sputare Ancora vivo Minchia ma toglie un botto Oh Porca di Questa puttana Ma io ho notato che Un colpo Metà vita Ti tolgono Vabbè Facciamo un piccolo Salvataggio Quindi al prossimo Stacco Nuove arrivi Facciamolo qua Sì Era 21 minuti Di gioco Che cazzo Che cazzo Ne so Non capisco più niente Andiamo Allora Ma perché Devo andare avanti No Faccio così Mi brucio Tutti Non mi apre La porta Aspetta Aspetta Porco scusa No No Stai Ma va a cagare Stai zitto Va Perché qua Stavolta Sono stato un po' più Fugo forse Niente Questo qua è morto E quello lì Davo iniziato a bruciare Penso Minchia che spavento Dammi solo questo E vada Lì c'è Un uomo Incinto Mi è morto Mi è morto Sì Dammi solo Ma sono senza parole Mi devo andare di qua Aspetta Fammi vedere qua Crediti Lì c'è un coso Della batteria Munizioni Aspetta Fatemi cercare Per bene Tutte le cose Vedi Qua Poi 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 Dunque Ah laggiù c'è qualcosa Un armadietto Lì Munizioni Bene Per questa Eh Sembra facile Ma Non è facilissimo Stai zitto Specialmente Se Parli Ti distrai Come un coglione Qua ho fatto Ah Qua c'è una batteria Altri crediti Dice un xbox Un po' qua La mettiamo per terra Culo Ok Questa la prendo E la piccola E la maria totale motore Sostituire la cella Energetica E adesso Se mi lasci Te la metto La cella Energetica Porco cane Oh Ma va Ponevi anche Eh sì Mi abbracciano Dai Ah non ho più Cazzo Ma va Un po' Dar via Cuno Va Aspetta Non ti incastrare Così Non ho questo Ma noi Me ne sento Una Cazzo Hai smesso Aspetta Oddio Cazzo Vieni corri Isaac Sì ancora uno E ma non corre Sto stronzo Dai Hai rotto i maroni Dov'è l'altro Che sputa Fa' il culo va Aspetta Crediti Qua L'avevo ucciso Quindi dopo tutto sto casino Mi do andare sempre di qua Lì è tutto andato Ok Lì al computer Ok ok Qua non c'è niente No Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Posso andarmene? Siamo sicuri? Vai Aprire Sì, 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 apri Attraversare i detriti delle tribellazioni Sì, con la difesa antiasteroidi Il sistema SDA è offline Io qui ho le letture Emond, la Ishimura è mar ridotta Ancora un paio di colpi e si distrugge Verda Daniels, dammi tutti i tuoi dati Correggiamo la rotta Isaac, tu disattiva il blocco del trasporto Io apro la stazione Vediamoci lì, dobbiamo lavorare insieme Ma vedremo tutto questo nel prossimo episodio Mamma mia, scusatemi se sono morto tre volte Quante cazzo di volte sono morto? Ma, e niente Oh, è andata così Ovviamente non so i nemici dove sono Un po' cambia Questo pezzo non me lo ricordo Nell'originale del 2008 Mi sa che è un'aggiunta C'era un posto dove c'erano dei motori Ma era fatto diverso E nulla, io direi che per questo Disgraziato episodio è tutto Un saluto da Cree, uno da Isaac E al prossimo video Speriamo che vada meglio Ciao 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 ciao